Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto o schiavitù? Allora non partirà nessuno. E' questo lo slogan scelto dal popolo di No Green Pass che sul canale Telegram Bassa Dittatura ha annunciato il blocco dei treni in 55 stazioni italiane, tra cui quella di Pesaro. La data della manifestazione prevista per mercoledì alle 14.30 non è scelta a caso. Infatti il 1 settembre scatterà l'obbligo della carta verde per i trasporti a lunga percorrenza. Intanto per altri locali e attività prosegue la convivenza con il Green Pass ed anzi è già tempo di bilanci. Sì perché se fino a qualche giorno fa si preferiva stare all'aperto, ora con il calo delle temperature inizia il vero problema. Chi ha la carta verde si potrà sedere comodamente all'interno, mentre chi ne ha sprovvisto dovrà coprirsi bene e mangiare seduto fuori. Per qualcuno è una discriminazione e per i gestori dei locali aumenta il lavoro di controllo. Non c'è stato nessun controllo, è andata sempre bene. E' anche vero è stata una bellissima stagione, quindi la gente da noi, essendo un locale molto grande, è stata fuori e non abbiamo avuto problemi. Adesso il problema sarà con l'inverno, con il freddo, quando la clientela entrerà dentro e controllare tutti se hanno il Green Pass sarà veramente un gran problema. Cioè uno chiede, chiede, ma a volte sai, ti mostrano anche i documenti che non sai neanche se sono i loro. C'è un po' di preoccupazione. Un po' di preoccupazione per l'inverno ce l'abbiamo, siamo sinceri. Per l'estate è stato veramente tranquillo. E in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell'esercente sia del cliente. Se il Green Pass è contraffatto o non coincide con il documento d'identità, si può essere denunciati per falso. Inoltre il titolare, che fa entrare qualcuno senza il passaporto verde, oltre alla multa, rischia la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni, se la violazione viene ripetuta per tre volte in tre giornate diverse. Controlli delle forze dell'ordine in questi periodi? No, ancora non li abbiamo avuti, anche perché noi siamo un locale all'aperto, considerato all'aperto. Per cui ancora non abbiamo... il problema sarà quest'inverno quando dovremo fare un po' da controllori per i clienti e chiedere a tutti il Green Pass, sperando che la gente sia, diciamo, educata, che viene a mangiare con una certificazione regolare apposta. Lei appunto non ha degli spazi all'interno del locale? Ha paura di avere, non so, un calo di clientela? Beh, è chiaro che un calo di clientela sicuramente ho paura di averlo, perché poi la gente, anche chi ha il Green Pass, magari ha paura di entrare nei locali. Io, gli spazi interni sono tutti questi, perché poi d'inverno qui si chiudono tutte le vetrate e diventa un locale chiuso, per cui è necessario, è obbligatorio il Green Pass. Un ristorante che invece non ha potuto lavorare questa estate per mancanza di posti all'aperto è il cuciniere. Abbiamo scaricato l'applicazione per eseguire i controlli, ci ha raccontato il titolare che è pronto a riaprire l'attività. Noi siamo un locale dove abbiamo esclusivamente posti al chiuso, quindi se la regola è questa bisogna rispettarla. Ma certo è che io quest'estate non ho visto un'estate diversa da quella dell'anno scorso, dove poi in inverno siamo ripiombati in tutto quello che è successo. Mi sarei aspettato qualcosa, cioè, un'accortezza diversa. Ho visto che così non è stata, tutti dicono che dovrebbe andare bene perché la gente, la maggior parte, sono tutti vaccinati, quindi incrociamo le dita, noi che siamo aperti solo d'inverno e al chiuso.